I tavoli saranno sei, si parlerà della gestione del modello di distretto rurale che poi verrà portato avanti sempre più perfezionato proprio perché i distretti rurali sono anche qualcosa di molto giovane anche nell'intento della gestione dei vari territori poi si parlerà di agroecologia che è uno dei temi fondamentali per rispondere ai cambiamenti che abbiamo per le mani a partire da quello climatico si parlerà di comunicazione, quindi di come promuovere i distretti e quindi i nostri territori al grande pubblico e vari altri temi molto centrati sul futuro dei distretti rurali infatti verrà redatto un documento che rimarrà come punto fermo per il lavoro dei prossimi anni